Stiamo trasmettendo su www.letteralmente.info Letteralmente Studio 3, Cristina da Firenze Poesia e racconto del cuore, spazio per te Una folla di persone si stringe intorno a me Cerca di afferrarmi le mani, mi ghermisce la vita Si impossessa dei respiri e i pensieri miei vuole per sé Tradendo la fiducia di chi non c'è E io mi trovo sola in mezzo a tutta quella gente Cercando di farmi largo tra la folla per cercare uno spazio per te Ma chi l'avrebbe mai detto che ora io ti sarei venuta a cercare Eludendo pregiudizi e verità Ma proseguendo per un cammino dove le canne di bambù Offrono un nascondiglio a un segreto che porti dentro di te Ci vuole coraggio perché il rischio c'è Che nasca un sentimento che unisca due cuori in un sol cuore E mi sento felice se lui parla di me Nascondendo un'emozione che gli fa tremare il cuore Quando il tuo sguardo si posa su di me Sento che i miei occhi si perdono in quel mare Che vedo agitarsi dentro di te E tra onde marosi capisco che il mio porto sicuro sei tu La nebbia si sta dissipando E come durante una commedia Quando si alza il sipario E appare il palco con gli attori Ecco che io vedo una stella Squarciare quella spessa cortina Il cielo azzurro all'improvviso appare Ed io vedo i miei sogni Tramutarsi in realtà Pensare di stare sognando Ed invece essere svegli La luce del giorno mi trafigge le pupille E tu dito le mie spalle